Le sigle sindacali abruzzesi danno appuntamento a Roma, sabato prossimo tutti in piazza per portare una voce corale che vada a rivendicare il diritto non solo al lavoro che continua il suo calo vertiginoso, ma al salario. Un salario che secondo i dati è bloccato dal 2009. Cinque anni nei quali invece il potere d'acquista è diminuito in maniera sempre più progressiva. I contratti del pubblico impiego sono bloccati dal 2009 con una perdita di salario di 4.200 euro già avvenuta nel 2014. La legge di stabilità prevede il blocco della contrattazione anche per il 2015, quindi ci sarà un'ulteriore perdita di salario leale di questi lavoratori. Oltretutto il blocco del turnover sta causando una forte riduzione dei dipendenti pubblici del nostro Paese. Pubblico impiego, servizi pubblici significa infermieri, medici, vigili del fuoco, insegnanti degli asili nido, persone delle agenzie fiscali, ispettori del lavoro, cioè persone che svolgono un ruolo importantissimo. Anche l'istruzione, come ogni incarico statale, ha subito perdite ingenti. Si stima un meno 10.000 euro per ogni insegnante. Il personale scolastico in questi cinque anni ha perso circa 10.000 euro complessivamente. Si parla di potere d'acquisto, giusto? Certo, certo. Si parla di reddito dei lavoratori, delle famiglie e dell'importanza che ha il dipendente pubblico nella società abruzzese. Perché è chiaro che il dipendente pubblico oggi si fa carico sempre di più di sostenere il disagio della propria famiglia.